Amici carissimi salve a tutti finalmente mi è arrivato l'oggetto del desiderio in realtà mi è arrivato da circa tre giorni si tratta di un inverter da 12 volt a 220 ad onda sinusoidale pura praticamente la qualità della corrente che eroga in 220 è molto 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 similissima a quella che è la corrente di casa vostra quindi a differenza di quelli che sono gli inverter quelli cinesi 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 insomma super economici non correte il rischio di scassare le vostre attrezzature elettroniche ne abbiamo un paio di quelli economici ma ho detto questi vanno bene soltanto per le rampadine dell'incandescenza meglio accantonarli un pochino e là dove magari devo attaccare una stufa immaginate attaccare una stufa con un inverter con una batteria è un pochino assurdo ma comunque forse un giorno troveranno una loro applicazione in questo caso avevo bisogno di un inverter per l'automobile quello per il furgone già ce l'ho è un 2500 watt con possibilità di picchi a 5000 sempre ad onda sinusoidale pura ma lì ci attacco tutt'altra cosa insomma un altro assorbimento altri un altro discorso questo qua piccolino da 300 watt va benissimo per l'auto certo qualcuno dirà ma è piccolo ma in auto cosa ci vuoi attaccare mi serve giusto per quello che è il trasformatore casalingo del mio personal computer il mio portatile e non avendo voglia né volendo rischiare di andarlo a scassare ne ho comprato uno dedicato un inverter dedicato e quindi quelle che possono essere questo tipo di esigenze le risolvo tranquillamente con questo best tech best tech che significa bistecca forse o best tech miglior tecnologia o forse non significa niente dai non fa niente ora prossimamente vi pubblico un video visto che già ci ho fatto un po' di giretti con questo cosino qua un video nel quale ve lo presento più nello specifico perfettamente passo passo vediamo un attimo quali sono le impressioni le caratteristiche e come si comporta anche a livello di assorbimenti ora qui abbiamo fantastico il manuale in tutte le lingue del mondo non ci crederete c'è anche l'italiano per una volta non è scritto in lillipuziano cioè i caratteri sono leggibili sono abbastanza grandi da poter essere letti anche da noi umani vedete è un bel manualetto dove ci dicono tante cose interessanti e giuste e poi eccolo qua dai tiriamolo fuori sto parlando tanto qua c'è l'oggetto del desiderio vedete scatolozzo di plastica ventolozza presa asciugo usb interruttore il led e soprattutto quello che è il nostro cavetto di connessione alla presa accendi sigari è tutto qua vedete non pesa nemmeno troppo è molto contenuto praticamente poco più grande di una mano e questi giorni vi pubblico un video dove con un pochino di tranquillità e molta molta precisione andiamo a valutare tutti quelli che sono gli aspetti salienti di questo prodotto quindi pollice su iscrivetevi al canale e a presto ciao